Quarto blitz esterno stagionale per l'Aquila, che all'Angeli Nizi impone di misura nel derby d'Abruzzo con il Chieti. De Patre presenta i suoi neroverdi con il 4-3-1-2. In prima linea lo spauracchio è il cannoniere De Sousa. La sua prova alla fine sarà generosa ma opaca. Nell'Aquila, schierata dagli anni con il consueto 4-3-3, squalificato il capitano Carcione. Lo sostituisce Menicozzo mentre la fascia va al braccio di Improta. Inizio partita dai ritmi bassi. Il primo spunto dopo 20 minuti è di marca aquilana. Ripartenza orchestrata sugli sviluppi di un corner avversario, Improta mette in mezzo per Agnello e il colpo di testa termina sul fondo. Cinque minuti dopo sono i padroni di casa a appungere. Bigoni pesca Verna che prende il tempo ai difensori e incorna a rete. Testa disinnesca il tentativo. L'Aquila torna a farsi pericolosa al 36esimo, destro teso di Improta con la palla che sfila di poco sul fondo. Prima dell'intervallo c'è spazio per la controoffensiva Teatina. Capugna si fa largo tra le maglie difensive aquilane e tenta di sorprendere Testa con un tiro radente. Il portiere rosso-blu in tuffo gli nega la gioia del gol. Anche la ripresa comincia all'insegna dell'equilibrio. Prova a romperlo Verna ma il suo tentativo termina alto. Al 25esimo la rete che decide il match. Ciotola al limite dell'area trova lo spazio per scoccare il sinistro. Sulla respinta di Feola si avventa Infantino, lesto a ribadire la sfera in rete portando l'Aquila in vantaggio. Tre minuti più tardi Nero Verdi avrebbero una buona chance per pareggiare. Ma di Filippo dai 16 metri manca il bersaglio. Per dare più spinta alla manovra De Patre sostituisce Gigli con Vitone. Mentre Gianni manda in campo Colussi per Infantino. E proprio Colussi ha l'occasione per chiudere la partita. Ma la sua volei di destro su servizio di Giannini esce lambendo il palo. Nei minuti finali il forcing del Chieti si concretizza in una sassata di Vitone indirizzata all'incrocio dei pali. Vale come un gol il volo plastico di Andrea Testa che nega all'ex giocatore del Teramo la rete del pareggio. E di contro consegna la vittoria all'Aquila. Andrea è stato bravissimo ma conosco bene le sue qualità. Però ripeto la cosa più bella della partita indipendentemente dal risultato che è importantissimo è stato l'atteggiamento della squadra che è rimasta compatta. Ha lavorato benissimo con i tre attaccanti. I reparti corti era quello che volevo e quello che ho visto. E ci ha dato questo risultato importante. Guardando la partita anche oggi noi non la buttiamo dentro. Abbiamo avuto diverse palle e golle. È stato bravissimo il portiere loro e loro hanno fatto due o tre tiri in tutto l'arco della gara. Poi la qualità la fa chi la butta dentro. Loro hanno grandissima qualità. È naturale che le poche occasioni che hanno avute le hanno sfruttate. Unico neo della giornata è il cartellino giallo rimediato da Agnello. Il centrocampista rosso-blu era diffidato. Salterà dunque la gara interna con la versa normanna.